Un disastro annunciato. L'enorme incendio che si è sviluppato ieri pomeriggio in via Sciano sotto il viadotto della Magliana a Roma non ha sorpreso nessuno. Ad andare a fuoco pneumatici, carcasse di auto e rifiuti vari, accumulate a ridosso di un accampamento Roma abusivo lungo le sponde del Tevere. I pompieri e la protezione civile hanno lavorato per lunghe ore fino a sera per spegnere le fiamme, con il supporto dal cielo di un elicottero che ha effettuato l'anci di acqua. Una nube nera adensa di sostanze tossiche ha invaso la zona di Marconi e di via Isacco Newton. Io mi trovavo verso le 13.40 sul viadotto e ho visto questa fumata e mi sono preoccupato perché non sapevo dove fosse. Poi mi sono avvicinato e vedevo comunque che l'incendio era in lontananza, però ero preoccupato per i cani che soggiornano in questa struttura, quindi ho cercato comunque di bagnare la zona circostante di box. Poi ho visto che l'incendio è stato spento, però subito dopo evidentemente si è riacceso perché ho visto di nuovo questa fumata nera. Poi in lontananza ho visto anche un altro incendio che sorgeva, quindi io praticamente ero in mezzo, quindi non sapevo se andare a destra a sinistra. Poi sono arrivati gli elicotteri e penso che si sia concluso bene la situazione. Io comunque sono ancora allerta. Quindi insomma due fuochi sostanzialmente? Sì, mi hanno detto che l'incendio è partito da un campo romo, ma qui c'è tanta sterpaia, quindi noi siamo qua comunque a fare il nostro piccolo. Da tempo i residenti denunciano la presenza di continui roghi tossici che quasi ogni giorno partono proprio dall'insediamento abusivo e il presidente dell'undicesimo municipio, Gianluca Lanzi, attacca. Un disastro annunciato come nell'estate del 2022, quando la stessa area fu devastata da un maxi-incendio alimentato dai rifiuti depositati lì dagli accampamenti abusivi. Nonostante non rientri nelle nostre competenze, spiega Lanzi, ho portato il tema all'attenzione del prefetto di Roma e delle forze dell'ordine.